Come di consuetudine, questa mattina si è svolto in molte scuole il tradizionale precetto pasquale. Padre Giovanni Roccasalvo, vice parroco della parrocchia del Sacro Cuore a Modica, si è recato nella scuola dell'infanzia via Risorgimento 217 dell'istituto comprensivo Raffaele Poidomani. I piccoli allievi della scuola materna hanno accolto il sacerdote con musica e canti, che hanno creato un'atmosfera di gioia e di festa in attesa delle celebrazioni pasquali. Una tradizione che si rinnova ogni anno prima delle vacanze di Pasqua. Padre Gianni Roccasalvo ha portato con sé un piccolo nido di cardellino, con due uova che dovrebbero schiudere a giorni. Le uova, così come nella tradizione pasquale, rappresentano la vita e sono il simbolo della resurrezione del Cristo morto in croce per noi. Un esempio semplice, un piccolo nido che ha incantato e affascinato i bambini e ha saputo spiegare loro in maniera molto semplice il dono della vita. Grazie a tutti.